Come si, come si flippa sta, sta cosa? Come... Come si flippa? Allora ragazzi, allora, allora, posso spiegare? Posso, posso spiegare? Posso spiegare? Allora ragazzi, ciao a tutti, ciao, piacere, sono... Ma come cazzo la faccio a mettere dritta? Ecco, ok, allora, aspettate, eh. Oddio! Ragazzi, penso che... Ringraziamo tantissimo... Smettiamola. Ringraziamo ragazzi tantissimo Epoch Cam di Elgato. Grazie, Nova Perlaki, grazie. Un bacino. Niente, allora, con questa roba qui mi servirà poi per... Oh, no, l'ho ringraziato... Eccoci. Eccoci qua. L'ho ringraziato e stava morendo tutto. Sempre colpa di Nova, incredibile. E allora, vi stavo dicendo, vi stavo dicendo, questa qui è una roba particolare. userò questa tecnologia, ok, per la live anche in cucina. Va bene? Ma soprattutto per farvi vedere anche un paio di cosette spicy. Aspettate un attimo, eh. Ecco. Guarda, guarda. Ragazzi, ho preso le altre carte ghost. Guardate, giusto per flexare un attimo. Dov'è? Ecco qua. Va che... Va che bellezza. Va che belle. Ah, le righe sono delle bustine, eh. Cioè, raga... Cioè, guarda che bello questo. Guarda che spettacolo. Aspetta che ve le faccio vedere per bene un attimo, eh. Aspetta, aspetta. Opla. Ho aperto un attimo la teca. Ecco. Queste qui sono carte rarità ghost. Ne esistono soltanto 60 di carte, ok? Non numerate, nel senso 60 carte, poi sono state fatte non so quante migliaia, ecco. La particolarità di queste carte, ora, per chi non conosce la rarità ghost, è appunto che ha questo effetto particolare, ma soprattutto la prima carta ghost, se non sbaglio, è l'arcidemone, il drago e il rosso assalto. Questa qui è la prima carta sfornata ghost e bro Emerald ce l'ha in prima edizione. Qual è la particolarità? Allora, in cam è difficile da far notare, perché ci sono tutti i riflessi, ma dovrebbe dare un effetto 3D. Guardate la mano. Non so se notate l'artiglio. Vedete che si muove un pochettino. È difficile da fare in cam, ecco. Vediamo se faccio tipo così, se sposto invece la videocamera. Ecco, forse rende di più. Forse rende un attimo di più. È che c'è la bustina che fa cacare, devo cambiarle. Però è appunto una roba particolare, ecco. Bene, aspettate che richiudo la teca. Ok. A posto. Eccoci. Top. E... Allora. Allora. Mi appoggio qui sullo stream deck di Elgato un attimo. Non cascare adesso, per l'amor di Dio! Ok, dopo... Porca buttana. Ok. Eccoci. Eccoci. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Niente. Era questa qui la cosa particolare. Basta. Fine. Fine dei giochi. Festa finita. Tutti a casa. Basta. Dov'è? Ciao. Giusto per farvi capire come mi sto già organizzando per le live in cucina, eccetera. Vi è piaciuto questo... Questo sneak peek? Ma io sono pubblicità. La sub dov'è? Dove cazzo l'ora è la sub? La facciamo? Eh. Che dire? Ecco. Spero che... Semmi Max Felicitas è quella che ho messo tutto il mento. Purtroppo non ho parole mignottone di Latos. Capita. Allora, questo è l'altro mouse. Così non me lo non li scambio. E niente. Ditemi se... Se vi è piaciuta questa cosa. No, in realtà adesso devo vedere se... I Bro... I Los Hermanos... Ancora non ho detto nulla. Aspettate, eh. Allora. A me mancano in vecchio studio troppi ricordi. Vabbò, raga. Che volete? Ma stai facendo lo spacchettamento? No, Teo. No, 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 no. No. Però, Teo. Non per dire Teo. Ma qui c'è una live in cucina dove chi contribuisce sceglie poi il menù. Teo, che facciamo? Eh. Allora. Dove, dove, dove? Discord. Dov'entraendo nel Discord mi sa di... Di Spoldo. Che ogni volta minchia a trovarlo i discordi di poldo. Da cavolo sta. Eccolo. Mi ci ficco qua dentro. Ok. A posto. Mi vuoi tentare? Sì. Sì, decisamente sì, ragazzi. M. Per festeggiare lo studio nuovo, per fare la cucina a penitenze? No. Prima facciamo una live in cucina tranquilla, normale. Poi facciamo cucina a penitenze, dove casomai... Inventiamo qualcosa. Prima di tutto fatemi tastare per bene tutto quanto, ecco. Anche perché sono robe nuove che faccio. Quindi droppare anche un format dove... Come si dice? Droppare un format dove... Chi è stato di mezzo, sub ha regalato altro, voglio farlo per bene in modo che poi nessuno è scontento, ecco. E nulla, nulla. Curai, grazie mille. Grazie mille per il Prime. E i 19 mesi. Thank you. Thank you, thank you. E nulla. Ora, pian piano in questi giorni sto cercando di... Di abituarmi un pochettino ancora al nuovo studio, perché... Avendo cambiato tutta l'impostazione dello studio... Mi sento come se fossi in una sala LAN, quindi non qualcosa ancora tanto di mio. E quindi ho un pochettino di... Difficoltà nel movimento, ecco. Sono un pochettino... Ceppo, praticamente. Per quello... Sì, esatto, non capisco più nulla, esattamente. È proprio quello. Perché è difficile, è difficile. Oggi cosa farai? Oggi faremo Noboli Simulator con Poldo, Sedia, Berro... Cioè, forse lei o anche... Non so in quanti siamo. Che tra cinque minuti, all'incirca, dovremmo iniziare a fare. E poi... E poi basta. Poi... Dopo vediamo se fare la Create Craft o qualcos'altro. Vediamo un pochettino. No, non è Monopoly. No. No, 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 no. No, no, no. Calcolate, ragazzi, che io, per tenere traccia per bene di quando uno fa sub, le sub, eccetera, sto usando il mio tablet. Quindi se ora uno fa tipo la sub, o regalo una sub, spunta qui. E io lo vedo da qui dal tablet in tempo reale. Capito? Potremmo invito a diviniti allo streaming come ospite. Partecipa. Ok. Allora. Dov'è, dov'è, dov'è? Ma io... Ok. Continuo senza webcam. Non voglio neanche sentire. Vieni dietro le quinte. A post. Ok. Ma, oddio, ma io stavo per scrivere nella sua chat. È proprio la sua chat. Ok. Ci siamo. Ma apri il menù vince chi dona di più. Esattamente, Teo. Esattamente. Ed è soltanto questa sera. Se volete scegliere voi il menù. Solo questa sera. Allora. Non so, Mattia, che iPad sia, sinceramente. Non mi ricordo. È un po' vecchiotto, comunque. Poco, poco vecchio. Proprio poco, 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 eh. E niente. Quindi... Ah, ho sistemato anche la cam dell'unboxing. Quindi in questi giorni, se non l'avete visto, le live lunedì e appunto martedì ieri. È perché ho sistemato altre cose che... Altri problemi che sono successi nel ricorso alle varie live, ecco. Ma se nessuno dona, quasi impossibile. Cosa succede? Boh. Boh. Sceglierò poi io. Vedrò poi io, casomai. E allora, Teo, che facciamo? Che facciamo? Emme, c'è una barra che dà fastidio. Come si toglie? E... Che cazzo di barra ne so? Che ne so, io quale. Ma perché lo chiedete a me, ragazzi? Ma io che ne so. Tutti i beni del mondo. Ma che vi devo dire? Che vi devo dire? Non lo so. Ok. Allora, vabbè, raga. Io devo aspettare tanto che arrivano gli altri. Bella Meliodas. Visto, guarda. È spuntato qua. Visto. È comodissimo. Me lo guardo qui che è spuntato Meliodas. Via. 37 mesi. Ho appena finito. Oh, con l'H. Gesù. Ho finito di assemblare il PC nuovo. Buono. Un solo per andare sul Treccani. Ma capo, ed alla fine l'hai liberato dalla cantina o no? Davide, pure tu l'H. Ma che c'è della tastiera rotta? Non capisco. Non capisco perché. Dove è finita l'H? Ok, intanto mi... Sono mezzo smutato su Discord. Tanto dobbiamo aspettare l'oro. Per il resto... Ah, ecco. Molto probabilmente. Allora, il 21 esce l'aggiornamento di... Gas Station Simulator. Ma forse il 21 non farò il live perché sono fuori per un invito. Ok? Quindi... Per l'appunto potenzialmente non ci sarà prima del 23. Ok? Quindi c'è questa roba qua. Perché il 22 facciamo turbo unboxing. Accendo sabre galate mettiamo qualcuno in cantina. Non... Non penso che non... Cioè... Allora, io ora come ora ho uno spazzettino talmente piccolo in cantina... Che non ci sta neanche il mio telefono. Ok? Giusto lo spazio per il contatore della corrente e basta. Poi non sono più sceso in cantina a vedere se quelli lì stanno facendo roba di narcotraffico o meno. Non c'è proprio... Perrofronzo è stupido? Sì. Corretto. Corretto, corretto. Questa è corretta. Buongiorno. Come state? Arrivo fra un minuto. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, Berro. Buongiorno, come stai? Tutto bene. Tu, Berro? A posto, a posto. A parte il fatto ovviamente di non avere soldi. Che è una cosa... Vabbè, Berro, non è un problema. Basta che uno ha la salute, l'amicizia e tutto. I soldi non servono. Non sono così importanti. Te, invece, come stai? Io, Berro, so... Le cose in casa che dovevi fare. Tu ogni volta che ti sento negli audio dici c'ho la casa che non funziona, la casa non sta casando. La mia casa che non stava casando, appunto, ha avuto dei problemini. Dei problemini in casa. Sì, sì, dei problemini durante, diciamo, in corso d'opera che ho dovuto poi sistemare al volo, ecco. Capisco. Capito. L'hai fatto? Sì, sì, sì. Mancano proprio due cosette. Nulla di più, nulla di meno. Il bene è che io, tipo, posso dare il coso a Poldo. Ok. Vieni dietro le quinte. Perché devo sempre scriverlo così? Vieni dietro le quinte. Ma è una cosa bruttissima. Sì, no, infatti. Sembra una persona che tipo... No, 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 ti sento doppio, Berro. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco fatto. Adesso non mi senti più doppio? No. Perfetto. Sei felice di questo? Sì. Posso dire... Tipo al cellulare così tipo... Posso dire sì. Ok. Un quadro... Ok. E chiudiamo la telecamera e siamo... Poi non so se funziona o non funziona, ma dovrei essere venuto dietro le quinte. Sì, che poi non ho capito a cosa serve quella roba nuova, praticamente. Non ne ho idea, non ne ho idea. Cioè, guarda, sarebbe che chiedere a Twitch di avere un senso nelle sue policy è come chiedere, non lo so, a Poldo di non memare per 24 ore di seguito. C'è una cosa... Ma perché, come mai questo semi disinvelato a Poldo, scusami? No, 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 è un modo di fare che io non riesco a capire perché per me Poldo è una cosa... Cioè, per me Poldo, per me memare è una cosa volontaria. Cioè, io devo pensare di farlo. Ok. Mentre per lui è come tipo far battere il cuore. C'è una cosa che lo fa anche mentre dorme, capito come? Ah. Ed è una cosa che, cioè, per me è difficile da concretizzare, capito come? Mmm, ho capito. Berro ti saluta mio fratello. Ciao, Gian Poldo. Buonasera anche a te. Va bene, allora io dovrei aver già inserito le cose. Io ho in realtà... Allora, guarda, io... Tu... Noi... Vuoi essere... Aspetta un attimo, Berro, un attimo che non... Non so perché non ho sentito rumori. Arrivo un secondo subito, aspetta. Non so perché non ho sentito... Ma perché non ho sentito le sub? No, non sento neanche il live. Teo, grazie mille per i 25 sub! Perché? Ma via, ti sentivano! Ora ho toccato qualcosa, ragazzi, e ho rotto tutto. Non lo so. No, spero di no. No, ragazzi, non mi dite che ho rotto qualcosa. Non ho toccato niente, capo. Please. Ma andavano... Prima le ho sentite, le abbiamo sentite prima. Scusate, facciamo un testo con un bonk. Perché sono silenzioso? Ma non è che ho cliccato qualcosa e io le ho silenziate. No! No! Scusate, eh. C'è qualcosa con gli alert. Mi sa che si è rotto un attimo streamer, Emens, raga. È andato tutto a puttane, ragazzi. Non lo so. Grazie mille, Teo. Grazie di cuore. Chi cacchio l'ha presa sti sub? Mamma mia! È rotto streamer, Emens. È rotto streamer, è rotto streamer, Emens, ragazzi. No, ok. È un po' buggato streamer, Emens. Ok, 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 ok. Allora. No, ok. Non è colpa mia, allora. Lo stream è acustico. Sì, sì, sì. C'è il volume, c'è l'audio. C'è, 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 c'è. C'è, c'è, c'è. Comunque, Teo, grazie mille per il 25, grazie mille. Grazie di cuore. Thank you, thank you. Ehi, Berro, sono tornato. Benvenuto a todo, sono tornato pur io. Ciao, Andrea, come stai? Ciao, perché mi hai chiamato col nome? No, scusami, non volevo, Boldo. Ecco, no, che mo' entra sedia, lo chiami pure a lui col nome ed è finito. Tutta colpa della congiunzione astrale che ha fatto sì che i mesi di subs corrispondano ai miei anni. Con il proprio nome l'hai iniziato tu quando hai cominciato a chiamarmi Max, anziché Berro, perché ho finalmente diventato amici. Massimile Fiorla, massimile. Io non è che tipo entro nella chat e dico ciao Salvatore, Andrea e Angelo, come vi chiami? Allora, intanto, intanto mi devi chiamare Turiddu. Turiddu. Ok, però mi raccomando, mi raccomando, non è Turiddu, è Turiddu. Capito? Il du è un po' più basso. Già avevo scritto sbagliato, allora grazie. Ecco, no, no, è un po' più basso, un po' più grave, diciamo, ecco. Un po' più basso, un po' più grave. Sì. E...sì. Bello sbronzo. Sono proprio io. Senti un attimo. Come mai abbiamo perso questa abitudine di prendere i giochi dal Game Pass che, cazzo, avete preso? È vero, Microsoft ha detto, dobbiamo sponsorizzare. Los Hermanos vi regaliamo il Game Pass a vita, tutti quei Los Hermanos. Davvero? No, non lo stiamo facendo. Sì, sì, sì. Allora, ti dico, non lo so. Ma è colpa di Mauro, comunque. Di Ma... Madonna, non so neanche chi cazzo sia, Mauro. Come che non sai chi è Mauro? Berro, 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 importante. Eh, sentiamo. Tu dove abiti? Dimmi, dimmi, dimmi. Tu dove abiti? Abito a Trieste. Ok. Puoi trasferirti qui a Ravenna. Adesso? Ah, no, dico, in generale. Non so che cosa sia Ravenna. A proposito di nomi, io ho scoperto che Gerry Scotti non si chiama. Ciao, ciao, ragazzi. Ciao, brother. Come stai? Tutto a posto? Una merda. Una merda totale. Perché che succede? Allora, adesso ve lo devo raccontare. Adesso lo racconto anche alla chat. Adesso spero che voi siete pronti perché non lo racconto, cazzo. Esattamente. Praticamente. Diglielo, fratello. Per spiegarvi questa cosa devo tornare a qualche settimana fa. Mi ha lasciato il computer. Mi ha fatto Blue Screen of Death. Qualche settimana fa mi ha fatto Blue Screen of Death il computer. Wow. Va bene. Ma a caso. A caso, completamente a caso. Te lo ricordi, è la primissima volta che io experience Blue Screen of Death. Ok. Che cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Siamo tutti curiosi. Io ho rilogato nel computer e ero scollegato da tutti gli account di tutti i browser. Ma da tutti? Tutti quanti? Ma adesso vi dico la cosa peggiore. No. È una cosa peggiore. E se vedevi al canale. 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 Sei loggato nel canale di Joker. No, fortunatamente no. Ok. Ma OBS, ad un certo punto. Fermi, fermi. Fermi, ragazzi. Fermi, mi devo dire questa cosa perché è allucinante. Vai. OBS. Quindi il Blue Screen e il tutto va male. Questo è l'atto 4 catastrofe. Questa è stupido. No, questa è catastrofe dopo catastrofe. Anzi no, in realtà questa è la prima catastrofe. Bravo. In realtà la struttura c'è. Dovevo dire il suo cazzo che sto tremando da ansia. OBS, OBS, mi è tornato ad una sorta di salvataggio di qualche settimana prima. Ok. Ok. Ah, me l'ha salvato. Buono. Quindi io ho perso tutte le modifiche che avevo fatto nell'ultima settimana. No, fratello. No, e avevo fatto delle grosse modifiche, non le avevo modificate, però avevo fatto dei nuovi format della nuova roba. Fermi tutti. Sì. Fermi tutti. Fermi tutti. Sì. Madonna, sta tutto cazzo. Io ho rifatto. Ho rifatto tutte le scene. Ok. Tutte? Perché avevo perso tutto. Tutte? Cosa? Qualunque scena? Tutte? No. Tutte quante? Stupidi, è una cosa seria, sono veramente arrabbiato. Capisci cosa ti dico, eh, Emerald, cazzo? Che Poldo, veramente, al posto di respirare, lui meme, ha capito? No, in realtà mi dispiace un sacco. No, ma non sai la cosa peggiore. Non sai la cosa peggiore. Io ho risettato che gioco. Non sai la cosa peggiore, quella è la cosa peggiore. Ho risettato tutto OBS, ho rifatto tutte le scene, ho rifatto tutto quanto. Tutto quanto. Lo sapete che cosa è successo oggi? Mi ha crashato il computer. Ed è tornato. Come era ancora prima. Alla testa che io avevo perso. Oh, my God! Ma è almeno tutto venisce bene? No, no, perché io avevo settato tutto per YouTube e quindi non era settato un cazzo di niente! Allora, posso dirmi una cosa? Basta, Andrea, Cristo Santo, che palle! Vorrei, voglio fare gli effetti speciali. Posso? Che cazzo è la media? Sedi, allora, se tu avevi tutti questi problemi qua, di la live non settata, tutti questi problemi, perché hai giocato a Fortnite prima della live invece di settarla? Allora, questo è il momento lore. Io sedia a Leo alle 20 e diciamo, eravamo in partita su Fortnite. Che abbiamo vinto! Abbiamo fatto una vittoria real e poi abbiamo settato la live in un minuto. No, il bello è che io adesso... No, Gold, ciao! Io c'ho tutto non settato, non c'ho niente. Mi dispiace, chat, che non mi vedete qui. Ciao, Gold. Ciao, Gold. Mi dispiace. Ah, raga, è un problema se sto streamando il Discord, no, vero? Perché ormai stream... Cry about it niente! Cry about it niente. Ma posso dire una cosa che tipo mi sto rendendo conto adesso? È forse questa la prima volta che i Los Hermanos sono tutti quanti insieme nello stesso momento? Sì, 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 sì. Tra l'altro accettatemi se è Leo lo streaming con il resto. Ma perché ti devo accettare lo streaming con il mutato? Perché comunque si vede che sei in live anche se non stai streamando, bro. Che senso ha? Chi è che sono stato streamando? Ma non mi va! Ma non mi va! Sì, c'è anche Cristo però, non risponde. Allora, ragazzi, io posso un attimo esporre un grosso problema? Eh, sentiamo. Leo, 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 Leo. Parte a due settimane fa. No, no. Mero! Ma perché Emerald è così basso di volume? Allora, ma Leo, per caso hai fatto qualche, come si dice, qualcosa per qualche lavoro tramite Discord? Perché sei l'unico che ha la propria immagine profilo su Discord, come se stai per fare un webinar. Guarda... Dovete sapere che Leo ha una foto da LinkedIn sul Discord. Esatto! Arrivo, faccio vedere. Perché non me lo fa vedere? Allora, non posso farlo vedere in live. Il problema è che prima avevo un'altra foto profilo. Che ero io da piccolo. Ah, è vero! È perché fino a qualche giorno fa avevo la foto profilo di Poldo e l'ho cambiata. E poi sono andato sul Discord a cui i miei amici fanno, perché hai la foto di un bambino? E allora era più difficile spiegare il fatto che avevo la foto di un bambino. Quindi ho messo questa qua. Non lo so, la prima che mia c'era. Ok. Capisco. Capisco. Ragazzi, possiamo avere un urrà per Berrofronzo dalle chat, per favore? Pip, pip, pip. Urrà. Urrà. Il pip, il pip, il pip, il pip. Beh, possiamo avere chat. Urrà per Berrofronzo, per favore. Urrà per Berrofronzo. Voglio tutte le chat. Nella mia chat non si sa l'ha fatto. Vai, vai, vai. Urrà! Possiamo fare un team 3 contro 3. Siamo tutti quanti insieme, lo serbono sei il gioco. No, è perché, no, ti dico, Berro, il gioco è da quattro persone, quindi mandiamo sedia e cristo a giocare da soli. Certo, certo. No, no, sempre questo, sempre questo. Facciamo finta che però stiamo giocando tutti assieme. Esattamente. Ah, ok. Ma che bravo. Sono un genio, Leo. Grazie. Non è il pip uranio. Uranio. C'è gente che mi sta mettendo il follow con dei nomi che io non so come cazzo gli abbiano autorizzato. Raga, io sono nel gioco. Io, un attimo, stai stavolando il gatto camera per passare tempo. Mi hanno appena scritto, Poldo mangia Omega 3. Io ho appena cenato e ho preso tre capsule di Omega 3. Quindi siete caduti dal pero perché io ho assunto Omega 3 oggi. Veramente? Io ho un po' di tre pillole di Omega 3. Oh, vi voglio bene ragazzi, siete tutti quanti insieme. E questa cosa fa l'Omega 3 circa? Tipo, ti fa stare meglio e più soldi. Più soldi. Più soldi Omega 3. Ragazzi, qui non stiamo facendo del gaming. Possiamo fare del gaming. Quando adesso facciamo il gaming. Io lo ho già aperto. Grazie, ragazzi. Allora, per chi non lo sapesse dalle chat, noi siamo il gruppo ufficiale E-Mates. Più uno. No, bro, ci denunciano di nuovo. No, ma che... Ti denunciano di nuovo se lo stai fermo. Siamo i mates. Ragazzi, potete un attimo vedere il Discord. Che bei piedi, Emerald. Grazie. Che sta facendo Emerald? Sto mettendo... Oh mio Dio, che paura! No, ma io sono in partita con altre persone. Ragazzi, ragazzi, devo dirvi una cosa. Chi è? Oddio, chi è questo? Aspettate, aspettate. Ciao ragazzi, sono io. Sono Zebo89, ciao ragazzi. A me è cresciato il gioco. Aspettate, aspettate. Perché arriva il General de Pelato? Dove sta Discord? No, ma si sta mettendo i filtri. Che schifo. Che schifo. Oddio, sei un streamer di Fortnite. Guardate che cosa abbiamo qua. Grazie per avermi salutato, ragazzi. Vi voglio tanto bene. Ciao Cristolone. Ma dove sei? Perché ci sono pieno di tedeschi sto gioco? Ciao ragazzi. Emerald, puoi rimetterti quella del Pelato? Certo. Certo. Aspetta, aspetta, aspetta. Oddio, sono io tra qualche anno praticamente. Ragazzi, io vorrei essere così da grande. Scherzone, cazzo. Allora, io non so se lo vede la gente della chat, ma è pieno di tedeschi sto posto. Cioè, guarda, i server sono tipo tutti tedeschi. Allora, gaming. Cosa cazzo devo fare? Dove devo andare? No, devo creare un server. Allora, innanzitutto il gioco è 3v3 a quanto pare. Ok. Quindi scegliamo le squadre e poi ci dividiamo in quest'anzi. Io devo rimettere la chatta, è importante che voi siate con me. Beh, domanda, ero mutato. Cosa dobbiamo fare? Deve aprire Minecraft. Vi sto per invitare, vi sto per invitare. Passiamo alla mappa di MrBeast? Sì, proprio quella. La mappa la sto facendo io, la sto facendo io. Ma stai facendo la mappa di MrBeast? No, smettila. Questa è una mappa da 50 anni. Ragazzi, è uscita la nuova mappa di MrBeast, se mi interessa. Vico. No. Dipende, quanto l'ha pagata stavolta. 2 milioni di dollari, perché ci ha messo la pixel art. No, ragazzi, ragazzi, non è nella lore Spirrofronzo. Non interrompe Cristo che stava parlando. Ragazzi, io sono arrivato adesso, ok? Cosa state facendo? Ciao, il gaming. Non sono scendi i coglioni. Ok. E il gaming? Ragazzi, salutate il gaming. Ciao, Cristo. Ciao, ragazzi. Cristo, hai scaricato il gaming? Cristo! Hai scaricato il game? Sì, sì, sì. Ok. A posto, scusami, era un po' infermurato nel sentire il nome del signore. Tranquille, ragazzi, ho imparato dai miei errori precedenti. Allora, ragazzi. Andate nelle lobby e ne trovate una chiamata Los Hermanos. La password è piedi tutto il signore. È quick game? No, Berrofronzo ci sente? No, ragazzi, cosa cazzo ho toccato? Perché c'è, tipo, Giulietta che ha lasciato un ananas dentro uno zaino e l'ha fatta ammuffire completamente, non so. Che tipo, zucca! Server list. Scusa, Berrofronzo. Non me lo sfruttavo proprio da Giulietto di Time. Sì, ma dimmi che cosa devo fare qua? Io stavo facendo... Qual è la password? La password è piedi tutto piccolo. Piedi tutto piccolo. Scusi niente, vi spero. Avete 40 secondi, 40 secondi per entrare in lobby, c'è un countdown veloci, 40 secondi. Non vedo 40 secondi, 35, 34, 33, 33, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 24, 24, 24, 24, 24. Potete bannarlo, per favore. Come si chiama? Madonna, che paura. Come si chiama? Come si chiama? Los Hermanos. Los Hermanos. La passo dai piedi piccola. 14 secondi, 13. Piedi. Ragazzi, fermo! Come si chiama? Los Hermanos. Non si chiama? Sette, sei, cinque, quattro, tre, ma chi c'è? Piedi! Tutto piccolo! Ecco Cristo, hai iniziato la partita. Cioè, Emerald da solo. Dai, aspetta adesso. Ma poi... Non si chiama? Abbiamo vinto! Io non capisco perché... Ma lo sto... Con la cosa di bel del film, tra l'altro. Ragazzi, piano! Non ho sentito la password perché mi hanno giftato le sub-shara l'alert. Piedi tutto piccolo. Piedi. Esatto. E scegliete un team. Che abbiamo come dire. Io faccio random. Vai. Allora, io... Passiamo i siciliani in cops? Allora, ragazzi. Berro-Fronzo deve andare tra i poliziotti perché è Sbirro-Fronzo. No. Ma ci dividiamo per le stanze? Oh, è già... Officer... Ma siamo soltanto io e Berro! Siamo 4 contro 2, sì. Ragazzi, non... Perché? Aspetta là. Cristo sembra sempre una bestemmia. Aspettate, aspettate, aspettate. Faccio restart round. Torna la cosa. Ma perché non mi prende l'audio adesso? Ok, dobbiamo aspettare 40 secondi per farlo ripartire. Oh, cazzo. Ma in tutto ciò, come funziona con adesso il gioco? Cliccate Ready, cliccate Ready, cliccate Ready. Ci sto provando, ragazzi. Dov'è Ready? Dov'è Ready? Cliccate Ready. Cliccate Ready. Ma grazie mille! David. Cliccate Ready. Ho già cliccato. Chiamate... Cliccate Ready. Dove? Cliccate Ready. Dove scegliere il personaggio? C'è Ready. Sotto. In basso, dec'è il timer. Dec'è il timer. È giusto, io ho Ready. Clicca due volte il timer. Io ho caccio il pompino, il pompiere. L'ho cliccato, l'ho cliccato. You are Ready? Cliccate Ready? Almeno Cristo l'ha cliccato. Io sono ready. Cristo! Niente. Va bene. Adesso faccio restart. Ragazzi, è una vittoria. E selezionate il team. Selezionate il team, amici. Ok. Molto semplice. Selezionate il team. Ci dividiamo per le stanze, così è molto più facile... Ok, va bene. Selezionate il team. Io sono u meno, quindi ne voglio sicuramente rilare. Allora, io vado... Io vado poliz... Non mi fa selezionare il team. Berro se n'è andato dalla stanza. Non c'è ancora. Non riesco ad entrare il team Coops, non so perché. Nemmeno io. Coops è massimo due. Ah, è proprio fatto così. Ok. È massimo due. Ci vediamo sotto, Em. Vai, arrivo, arrivo, arrivo. Allora, Em, noi siamo la polizia. Ok, a posto. Dobbiamo spaccargli il culo. Vai, sì. Allora, io ho Spy, SWAT, FBI. Secondo me, adesso, che sono scarsi, SWAT è incredibile. Ok, andiamo entrambi di SWAT, dici? Oppure io metto altro? Forse io farei SWAT e tu uno magari più veloce. Eh, vado allora di... Aspetta che l'ho trovato. Uh-huh. Uh-huh. Eh... Huh. Mi sa, vado di... Di Spy. Provo Spy, dai. Spy. Vai. Spy! Come quello di Team Fortress. Team Fortress, sì. Team Fortress. Team Fortress. Team Fortress. Ma un giorno portiamo Team Fortress. No, bro, io non ce la faccio più. Non voglio più toccare quel gioco. Davvero? Io, tipo, non lo tocco da meno da dieci anni. Era meglio il Combat Medic. Non lo so. A me questo caso, onestamente. Fammi vedere il Combat Medic. Perché se no... Oddio, aspetta, aspetta. No, faccio il coso. Il pompiere. È già iniziato. È già iniziato. È già iniziato. Allora, bro, sono scarsissimi, quindi adesso è il momento giusto per... Allora, noi non riusciamo a vederli. Loro devono fingere di essere NPC, ma non lo sanno. Quindi si vedrà molto facilmente chi sono. Allora, questo è il capo della banca. Ok, quindi devo tenerlo fermo. Quindi possiamo sparare tipo a vista, poi, una certa. Sì, 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 sì. A quelli che si muovono. Saranno già entrati... Ecco, già li vedo, già li vedo che si muovono come i pazzi. Vediamo, vediamo. Arrivo, arrivo. Ah, ma non si può correre. C'è ne uno qua dietro. Ho sparato a un civile, bro. No. Aspetta, aspetta. Ho visto uno a nascondersi. Aspetta, lui mi sembra berro. No, è ammazzato Cristo, bro. Giusto? Allora, vedi, vedi i vault. Aspetta, uno, uno. C'è una pistola, uno, c'è una pistola. Vedi i vault, poi? Sì. Ok, dobbiamo difenderli. Quindi, ovvio, perché potrebbero attaccarli da un momento all'altro. Va bene, va bene, va bene. Calcola che tipo io ho letteralmente killato due di loro. Ma ve lo possono respawnare? Sì, sì, possono respawnare. Ah, perché noi dobbiamo proteggerlo per i prossimi quattro minuti. Vai a controllare quello sopra. Io controllo quello sopra. Perché è aperta questa può? Allora, salgo sopra. Mi chiamo. Controlla quello sopra, controlla quello sopra. Sì, e guardi al ladio, praticamente. Sì, 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 sì. Oh, uno, c'è una pistola, mi spara. Mi ha ucciso. Da dove? Piano di sopra. Leo, Leo, mi ha ucciso. Vado, vado, vado. Sono respawnato. Piano di sopra. No, mi ha ucciso. Ma come fai? Ma avevo la SWAT. Come è possibile? Fatto, fatto, fatto. Leo, l'hai ammazzato? Sì, 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 sì. Tu tieni l'occhio al piano sopra, bro. E chiudi la porta qui, così so che... Con certezza che... Ah, se killi un civile, muori tu, però. Ok, qualcuno sta tentando di... Arrivo. Mi ha ammazzato uno, però hanno aperto il cavo, bro. Ok, il cavo... Arrivo, 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 arrivo. Sì, sento l'allarme. Ok, io devo stare davanti al cavo, perché sennò arrivano, bro. Tu controlla quegli altri due. Io sono qui, sono davanti al cavo nascosto. Quale dei due? Quello sopra, quello sopra. No, ce n'è due sopra. Vai a controllare pure gli altri, se puoi. Controllo. No, qua c'è soltanto... Niente. Ok. Ah! Non lo so, questo mi sembra sussi. Non ho visto ne si muove troppo velocemente. Ok, ok, ok. Piano, piano, piano. Allora, ormai hai capito. Sì. Devono tentare di fingersi NPC. Chi è questo? Gli è sparato? Sì, però non gli ha fatto nulla. No, no, no. Chi l'ha dato mi sa qualcuno. Perché due sono morti di loro. C'è soltanto sedia e Cristo, Vivi. Sì, sì, sono solo sedia e Cristo, Vivi. Allora, qua sopra c'è un NPC che mi sembra molto strano. Però non so se spararli, perché abbiamo una sola vita. Perché... Qua c'è una porta aperta, l'hai aperta tu? No, 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 no. Io sono sopra e sto controllando sopra. Allora, c'è un NPC che qui è fermo. No, dai, dai, bro, bro, bro. Questo qui non è... Dai. Chi era? Non io? Non hai sparato tu? No, 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 no. Io ce n'ho uno sottotiro che mi sembra molto sus. Allarme? Sì, sì. Il fatto è che... Se io provo ad ammazzare sto tipo... Devo andare nel NPC, muoio e perdo la vita. Sì, 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 è ovvio, 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 ovvio. Allora... Piano. Oddio, è bellissimo sto gioco. Allora, sono arrivati due qua sopra. Si sono appena fermati, ora sono in tre. Ok. Eh, si muovono quasi tutti in maniera strana, tranne uno che è infermo qui da un pezzo. Io sto controllando l'unico bunker che hanno bucato con la bomba, che è il loro unico... Ok. L'unica possibilità di vittoria. No, come hanno rubato? Hanno rubato? Da dove? Eh, torniamo sopra, manedizione. Mamma mia. Allora, guarda. Allora, guarda. GG, ragazzi. Quello avete rubato? Quello avete rubato? GG. Io ho rubato trentaduemila. Ha fatto tutto sedia, io non ho capito niente. Allora, sedia e cristo sono i cops. Va bene. Su emerald e poldo. Dico, grazie a Robin. Ti ho peccato anche sopra. Ok. Ti ho guardato con la kill, bro. Mamma mia. Allora... Ok, ci siamo. Ok. Ho spostato giù i due poliziotti. E... Voi avete imparato a giocare, raga. Io sì, 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 l'ho capito, è una cavalata. Due volte. Dai, bravi, bravi, bravi. Ma io non ho capito, la bomba ce l'abbiamo tutti, quindi? Però non lo so. La bomba, sì, la devi prendere dalla macchina, la bomba. Ah, ok. Ti dà una varigetta con una bomba. Insider. Esatto. Io vado di ninja ancora, mi è piaciuta come build. Io vado di dottore, non so bene. Voi ci vedevate con una maschera su o normali? No, normali, normali. Ok, ok. Quindi possiamo cercare di andare in disguise. Esatto. Io dobbiamo per forza fare tipo il... Ok, ok. Devi fingere di essere un NPC, esatto. Fatto, fatto, fatto. Ok, sono pronto, sono pronto. Io ho messo insider, amici. Che forte che sei. Bene, allora. Anch'io sono insider. Ok, però occhio che iniziamo da dentro e... Road to 2 anni. Ah, così funziona. Sì, sì. Esatto. E devi fingere... Devi fingerti... Un NPC, esatto. Ah, no, questa è riuscita di emergere. Qua ho aperto? Qua si può aprire? Sì. Considera che camminare all'indietro non è... Che è morto di loro? Cristo? Non c'è nulla qua. Ok, via, via. Ma è morto Cristo perché? È crashato? Ah, no, no. Ok. Ha ucciso un NPC vuol dire. Sì. Ah, ok. Che non era un cop. Aspetta, qua c'è un poliziotto. Ma la bomba, voi ce l'avete? Ah, no. C'è... Perché ce l'ha? Porca puttana. Mamma mia, mamma mia! Mamma mia! Un poliziotto! Figa! Figa, cammina dritto! Figa, che paura. Ti ha ucciso? Ma il poliziotto non sono loro! Ah, sì, era sedia. Stupido sedia. Ups. Gli hai fatto sgribi di toilet? Io sono... Ok, ok, vieni qua, boldo. Facciamo il giro, facciamo fine. Siamo negli NPC. Ah, Cristo! Sì, è proprio lui. Mi ha ucciso Cristo e Spur. Posso respawnare? Ho il permesso? Posso disabilitare la telecamera? C'è mai quante vite abbiamo? C'è, boh? Sì, ce lo dice sopra. Eh, sto disabilitando le telecamere. Mi sono fatta ammazzare perché ero troppo sgamo. Non so che cosa... Ti vuoi mettere dentro i closets? I closets? Bro, io... Io sto piazzando una bomb... No, non ho le bombe, bro. Io ne ho lasciato una per terra perché Cristo... Bro, io sono dentro il cavo. Frate, io sono dentro... Non abbiamo più vite. Finiti... Cioè, morti noi sono morti tutti. Sì, sì, sì. Esatto, esatto. Vabbè, ma cazzo, ma è un casino così. Allora, raga, io sono dentro il cavo, eh. Ma a me ha spumato lontanissimo. Ti porto la bomba? Vai, 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 vai. Se riesci, sì. Io sono qui. Appena entra uno, io... Dove cazzo è la bomba? No, Cristo, che stava camperando il furgone, dai. Mi ha visto subito. Ma porca puttana. Bastardo, bastardo. Ok, chi è? Ma io adesso non so come fare perché sono l'unico tipo... Eh, sto cercando di capire dove è Cristo. No, no, siete in tre vivi, raga. Siamo in tre, siamo in tre. Allora, bro, Cristo è dove c'è il furgone nostro. Ok. Non c'era la bomba. Non c'era la bomba? In che senso? Sei come vestito? Non c'era la bomba. Non c'era qualcuno. C'era qualcuno di noi? Questo è sto bastardo che sta camperando fortissimo, cazzo. Ema, dove sta di preciso? Occhio, Ema, che... Muoviti solo con la buca. Ful NPC, bro, vagli addosso, vagli addosso, così non ti becca. Sbattegli in faccia è il modo migliore per non farti beccare. Gli spara la nuca, gli spara la nuca adesso. Guarda, 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 guarda. Non è la bomba, però, non è la bomba. No! Ma dai, ma che cazzo di campero? Così non si può giocare. Dissi dove è Cristo che siamo a sparargli. Qua sinistra, qua sinistra c'è un bunker, bro? Bro, non so a chi stai parlando. Con me, come, come, mi so. Qua devi piazzare la bomba. Occhio, siete di nuovo? Ma non ho la bomba? E io non so... Nasconditi, bro. Dobbiamo capire come pia sta bomba. Forse c'è una classica alla bomba? Ma no, non penso. No, no, c'è una valigetta, cazzo. Forse non è che c'era qualcuno di noi. Allora, sono camperato qui, eh. Io, no, io non ce l'ho, tipo, la bomba. Sento qualcuno che sta vicino. Io ho... Come senti? Cioè, sei in modalità full tattico. 8% di... Bro, io ho... Problemi di CS. Eh, io sto cercando di capire. Non trovo soldi. Cioè, se non abbiamo la bomba non possiamo fare niente. Cristo arrestato? Eh, perché ha sparato troppi civili. No, è morto. Sì, sì, esatto, esatto. È rimasto tanto sedia, eh. Beh, sì. Ah, ora sappiamo... Ho preso sulla bomba. Dove vi trovo? Ok, va dove c'è Emerald? Che sarebbe... Sotto, 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 sotto. Devi entrare dentro. Dentro e sotto. Cioè, sto poliziotto che sta tipo saltando, camperando, andando in giro, facendo cose. Ti indico io, berro. Ti indico io. Destra. Fatto, fatto, fatto. L'ho killato io, l'ho killato io, mi sa. Ah, ok. L'ho killato io. Sì, 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 sì. Ma porca puttana. Ok, abbiamo vinto. Vai, vai. Ok. Abbiamo scoperto due gol. Eh, va, 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 mi ha segnato, ho sparato due... Ha passato due volte. Sì, va beh, ma qua non è... Molto bello, un po', eh. Non è che io ti sparo e muori praticamente. Spararti, spararti in questo gioco è un suggerimento. Ragazzi, io vi ho fatto malissimo a sto giro, sono troppo forti. Io ho sparato in questo gioco. 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 Ok, Leo e Berro sono i poliziotti. A dopo. A dopo, a dopo. Ok, ci buttate sotto voi? Sì, sì. Cristo santo. Oh, allora, abbiamo scoperto varie cose. Uno, la bomba dove l'hai presa, Berro? No, Berro è un poliziotto. Cazzo, no! No, come facciamo adesso? Allora, ce la possiamo fare. We can do it, guys. Ce la possiamo fare, boys, dai. Ragazzi, con l'ingegnere, io ho l'RCX di Black Ops 1, la telecomandata con la bomba. Eh, questo è incredibile, engineer. Provalo, provalo. Eh, infatti lo provo, ora vediamo. Molto figo. Io provo questo, provo questo. A me sta piacendo da morire. No, no, ma è bello, è bello. È bello, eh? Perché devi fingere che sei nei PC. Non ho capito come si ruba. Evitiamo di vincere, evitiamo di vincere uccidendo gli altri, proviamo rubando. Allora, ruba, devi andare nei cavo, piazzare una bomba, farlo esplodere e poi portare al cugoletto. Ma dove sono le bombe? Questa è la bomba, questa è la bomba. Però se te la metti nella schiena, gli altri lo vedono. Quindi, prendiamola dopo. Questa qua è la bomba. Prendiamola dopo, una volta che abbiamo capito quale capo vogliamo attaccare. Ma vai vai vai. Un secondo che mi dico. Tu c'hai l'icona del telefono. Non lo so perché. Ah, perché sono laker. Laker. Ragazzi, ho tirato un drone. Beh, prima non avete fatto molto stealth. No, stavamo capendo cosa fare. Allora, vado, vado. Io vado tranquillo. Allora, io sono sul tetto dell'edificio, ragazzi. Raga, riuscite a distrarli? Io gli rubo tutti quanti i gioielli da questa parte. Io vado tranquillo, piano piano. M, M, c'è qualcuno qui in zona? C'è uno col drone. Chi in drone? Col drone, eh? Uno di loro è col drone. Mi ha appena passato davanti e non si è accorto. Ma uno che ha la SWAT, secondo me, è un... No, no, no. Che culo! Ho tirato quella canta e me ne è morto. Ok, niente, 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 niente. Oh, porca puttana. Non posso spaccare. Chat, chat. Chat, fate silenzio. Ragazzi, sono dentro un coso. Io ho appena asciullato tutti i giorni. Io sono al bunker. Sono al bunker. Cosa? Sono al bunker, piazzata la bomba, raga. Sei in quello sotto? Sono in quello sotto. Venite a darmi supporto. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ragazzi. Uno di loro mi ha sparato. Mi sto camminando come un RP. Non ho smesso di spararmi. No, vi sciuscio quanto voglio, chat. Vi sciuscio sì, perché dovete fare silenzio. Dovete capire che questo è il gaming silenzioso. Eh, 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 raga, andate a prendere i soldi nel bunker, quello sotto vicino al bagno. Allora, io ho l'ingresso della... Io ho 24.000 nella sacca. Ok, devi andare, devi andare al furgone, bro. Un attimo, adesso vado al furgone, adesso vado al furgone. Adesso vado al furgone. Un attimo. Ok. Shhh. Non si aspetteranno nulla. Ragazzi, io... Io... Raga, raga, raga. Sto andando al furgone con 30.000. Vai, 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 vai. Oh mio Dio, oh mio Dio. Vai al furgone, ti seguo, ti seguo, ti seguo. Ho 24.000 nella sacca, cheat, shrek, no, no, shrek. No, mi hanno sparato, figlio... Cazzarola, c'ho... No, 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 veramente, ragazzi, la mia cosa... No, 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 no. Chi c'è qui fuori, ragazzi? C'è qualcuno vicino a me? No, 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 no. C'è Leo, c'è Leo. Leonardo Bruno, lo sapeva Leonardo Bruno. C'ha la puzza, c'ha la puzza tutta. Ma, ragà. Punto. Bianca, bianca, bianca. Sta mangiare le polpette, quello è ovvio che non serve... Non è concentrato sulla partita. Scusate, ho fame. il problema è che poldo ha un 26.000 si ma un canzino con i soldi che gli escono fuori allora raga dovete fare altri 4.000 4.000 la mia era piena no è rimasto vivo solo poldo però che te lo dico io vai sopra vai sopra ci stanno basta che ne prendi tre belastro il vetro prendi tre collane e riscendi a tutta velocità esatto dove devo andare sinistra destra sinistra 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 giulia vedi vedi giulio giulio aspetta aspetta vedi vedi le collane a sinistra ok ok vai rompi prendile 3 3 3 te ne servono 1 2 e 3 corri 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 vai 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 ragazzi ragazzi ma io ho visto uno di loro decollare finalmente cazzo non armi siciliano 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 allora io dove vado vado in io faccio random così ok sono con sedia io ok vai mi spostate voi sì 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 thank you allora mister c'è un sedia qua dobbiamo fare il gaming sì 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 allora come cazzo funziona il cobb allora allora call backup rescue lad io faccio il fair fighter così almeno uso l'auto sniper e da easy mi metto mezzo campionato credo che proverò la spia tipo quelle di team fortress sì 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 sono un pulotto ragazzi c'ho anche il baffettone il baffettone quello lì proprio anni 80 ammettiamolo nessuno si aspettava comunque cioè io prima cosa facevo proprio sparavo un corpo ai poliziotti che si giravano io poi camminavo da npc tranquillo e sparavano tipo a qualcun altro e morivano ok ok devo stare attento allora quindi allora io c'ho con la spia c'ho l'abilità di di far diventare me stesso come un npc ok io c'ho l'abilità di fare tipo le scale di vedere le telecamere io posso delle telecamere cazzo e mi sa pure io ma adesso mi vedi mi vedi che sono un customer sì 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 vedo che sei tipo bell'elegante codo 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 raga chat mo il momento allora tattica io ho insegnato la tattica mi stanno sparando e mi stanno sparando mi stanno mi hanno ucciso mi ha ucciso leo è pieno di sopra già sta sopra sì 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 non se lo aspetterà mai sì mi sa che a questo punto tocca già uscire con con le armi godo 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 ok sta sparando a chi io io a leo l'hai ucciso sì 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 codo gamers stanno provando ad arrivare qua sopra adesso mi metto camperato qui c'è un cazzo di drone qua devo solo capire chi è chi tanto tanto quando quando non mi vedono vedo già questo qui che sta andando un pochino troppo veloce già controllo sospetto raga sì molto sospetto c'è uno che corre fuori ok io copro il piano di sopra comunque allora mio uno davanti ed è fermo ok io sto io sono molto confuso in questo momento tu che avevi ucciso io ho ucciso leo grazie ale un bacione grazie dell'abbonamento bentornato abbonamento da 13 mesi porca è la madosca un botto poi su youtube godus io sento loro che stanno spaccando roba vedi eh staranno sopra secondo me allora visto visto uno fatto fuori godo era cristo era cristo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo quanti ne sono ma perché non fa vedere quanti quanti ne rimango no no perché adesso è vivo tanto poldo e berro poldo e berro sì lo vedi da sopra possiamo farceli secondo me considera che hanno ancora 6.000 quindi long way to go proprio allora io andrei a controllare solo i volt giusto per essere tranquillo sì sì spia è fortissimo è vero stai correndo tu sì ok oh allarme no l'ho allarmato io ok vedo un attimo le telecamere qua sta cosa mi puzza eh sì qua mi puzza forte un'intera col coso mi sa col con il con lo zaino non ho visto nulla che cosa è? una bomba bomba al cavo sotto cazzarola è difficilissima sta cosa madonna sto concentrato proprio da gamers chi hai sparato? no berro è nella sala principale ma quali? chi è? eh non lo so c'è il pompaz madonna raga gaming aspettate però stanno ancora a 6.000 questa cosa è rassicurante sì controlla un attimo le videocamere vai vai sopra non c'è nessuno nessuno con lo zaino e uno con lo zaino sta scendendo le scale principali ok l'ho visto? ok perfetto fatto seccato goto goto cazzo bravo bravo è mamma mia manca sotto polo polo mi ha sparato ecco manca uno là dietro là dietro fatto let's go let's go let's go grandeme mamma mia grande eh ma non potevamo comunque le bestie ragazzi ragazzi mi dispiace beh vabbè cs gopro player mi dispiace allora prima di andare avanti due regole e se avete lo zaino con la bomba si vede due attenti ai vestiti perché tipo i civili non possono stare nelle zone dei dipendenti quindi se c'è un civile là vuol dire che è un player bisogna swapparsi i vestiti con un npc che uccidete se gli date un pugno cade a terra potete fare swap vestiti ma questa cosa è bellissima ah sì questa cosa sì lo sapevo ok ragazzi voi lo sapete io sono nato sbirro ma io sono un pompiere ragazzi vai andiamo vai io e te siamo con te non so non so chi prendere a questo punto allora guarda io gli dico io con il pompiere e l'autosniper mi ci trovo benissimo perché proprio vedo le telecamere e poi mi porto in qualche stanza più avanti aspetto che arriva e lo shoto subito in testa è proprio easy easy peasy quindi scegli qualsiasi altra cosa che ci può stare io vado spy vai tu stai facendo fair fight io faccio spy vai 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 buono buono ci sta ci sta ci sta ciao stermi stermi che facciamo c'è una live in cucina qua sotto faccela di nuovo che palle che palle e se il vero non fosse morto in quel momento ma il vero tipo l'ho visto con le telecamere ha detto minca strivando nelle scale mi sono messo lì è sceso ok bro ci sei? sì io faccio il giro a destra io in disguise così ma ecco io posso ti tirare quindi un pugno a uno e prendere il suo outfit io in questo momento sì sì no no da poliziotto non lo puoi fare lo puoi fare da che sei spia che sei spia esatto 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 allora bro io sono disguised come un civile quindi li proverò a fregare il problema è che io sono sono un pompiere e quindi mi mi sgamano io posso io posso tranquillo tu corri liberamente io stanno spaccando dei vetri quindi sono alla gioielleria sì sì gioielleria eh li li prendo da qui adesso sì 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 anche li provo a prendere oh mi sta scappando uno fatto fatto niente merda di pistola si sono si sono accordati merda merda no le ho pochissima vita ne ho fatti tre vedi eh ne hai fatti tre minca si vado sempre alla gioielleria perché forse non hanno capito ancora come fare la bomba arriva io bella no mi ha ucciso Cristo mi ha ucciso Cristo porca miseria porca miseria sono all'entrata sono all'entrata bro fatto seccato seccato? sì hai i soldi? fatto madonna fortnite fortnite gaming let's go non è vero ci giochi tutti i giorni ci giochi tutti i giorni non è vero non è vero io non gioco spesso a fortnite ci so che tutti i giorni bro ci giochiamo tutte le serie a fortnite vai adesso il ladro dai cosa devo fare? ma raga ma mettete random team così decide il gioco io metto random io ho fatto random ma siamo tipo sempre le stesse squadre ok sì va bene ok vai ma cazzo ma scusa un attimo no emeraldo sì sono io esmeraldo dimmi io ho sparato due volte con lo shotgun e due volte ma lui gioca si è possibile bro bro si chiama perfect ice 2 esattamente io mi dispiace ma berro imprendibile godopoli imprescindibile godopoli supremo quello che sono nella vita reale gioco troppo a fortnite ragazzi non gioco abbastanza a fortnite ma cosa vuol dire che posso rubare i cavalli cosa vuol dire penso che metterò questo io faccio l'ingegnere ragazzi ho studiato qui a Politecnico di Milano no 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 vado di insider io nel frattempo guardo Atletico Madrid Inter ragazzi non mi dite che cazzo di cose sono gli altri non mi dovete spoilerare le cose ma guarda che in fortnite ci giocano tutti infatti io non ci gioco non assumerò mai più ma stai zitto ma stai zitto ma stai zitto che ti ho visto fino a ieri giocare a fortnite dai ma sei completato i passi per i miei giorni non hai migliorato per niente minchia prova peggiorato comunque consiglio personale prossima allora prendo ninja allora noi abbiamo già guadagnato 2000 dollari come? per il semplice fatto che il mio personaggio tipo spawna con la maschera di Donald Trump e spawna con 2000 dollari di suo quindi proprio la valigetta è vicino alla cosa quindi possiamo dire di non averla finita a mani vuote ragazzi io uso la macchinetta esplosiva la macchinetta esplosiva dove sta dove sta dove sta dove sta arriva 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 raga è difficile chi è che c'ha la macchinina io 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 c'è un tizio che palesemente sta camperando qua sopra con la pistola però non ho voluto sparare sempre lì perché è facile ragazzi bravo sedia bravo è là dentro eh è là dentro sedia dentro queste porte c'è un tizio che tipo berro è complicata questa situazione ragazzi è molto complicata ma bastardo 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 stanno sempre sopra ne ho ucciso uno minchia niente ragazzi ah l'autilo del cazzo ragazzi però dovete descriverli cosa dobbiamo fare? dovete descrivere come sono vestiti sono è rosso è rosso troppi rossi qui da smidani a tovarish ma basta con sto cazzo di coso ragazzi io sono io c'ho io c'ho ma tu sedia ti vedete ti si vede che hai un come si chiama un sacchetto sopra la testa ah davvero? si eh si sedia scappa scappa via sto per scappare io ti seguo con la macchinina 3 2 1 aspetta vai 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 esco da qua esco da qua va bene va bene va bene sono morto ragazzi ha avuto uno stroke sono morto ragazzi ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'hai? ce l'ho 12.000 ragazzi siamo 14 ma va bene 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 io vado con la macchinina no non ho preso la tua sacca ci sono anche 12.000 12.000 miei ci sono là ce l'ho potuto fare ce l'ho potuto fare stanno camperando come bastardi sopra questa cazzo di cosa stanno camperando sulla borsa sicuro eh ragazzi prendiamo altro io posso far esplodere mi sa qui la parete con la bomba ragazzi è il game oh si sedia più forte dove 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 si sedia allora vai più forte ma faccio scoppiare quella cosa dai faccio scoppiare questo sedia porco che è successo? mi sono checcato è stata la mia macchinina ragazzi che cazzo non hai fatto? ho una macchinina esplosiva fico capito esplode bro ah fico quello che è successo letteralmente è una macchina che esplode ho fatto esplodere proprio dentro la stanza vicino a qualla e gira tutto intorno alla stanza ma se corricchi ti si sgabbo ragazzi ragazzi ho aperto il cavo l'hai aperto? sì quello qua dove c'è dove ci sono i cosi qua 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 i i gioielli io sto provando a vedere se c'è tipo gente che tipo sto facendo da palo praticamente io tra un po' andrea a prendere qui 12.000 molto soccosi è carico di soldi come una zampogna ragazzi si devo scappare da qui ragazzi ma si sente questo rumore eh ragazzi hai sparato direi ragazzi 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 mi ha ammazzato mi ha ammazzato mi ha visto perché ho piazzato uscite 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 no ragazzi è rimasto solo berro 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 devi andare calmissimo calma verso il furgone non correre non correre piano non far vedere che non sei un NPC vai piano vai piano sei un NPC berro si si verso il furgone però berro 45 secondi quindi sarebbe il caso che te muovi esatto che te muovi oh che te muovi il furgone a destra è a destra no berro dove cazzo vai è anche lì è anche lì è anche lì è anche lì mi devi rompere i coglioni sto zitto è quello a destra vero si è quello lì sono un NPC devi andare dove si guida eh stanno campeandoli stanno sicuramente campeandoli berro è qui 15 secondi Gesù Cristo 10 secondi berro corri berro corri devo andare dove si guida qua 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 prendi qualcosa credo di essere uscito ragazzi secondo me non gestite molto bene l'ansia per niente berro per niente ragazzi zero nel mio curriculum c'è scritto non riesci a fare nulla in caso di stress che palle ragazzi io ho rubato tipo 25 mila dollari madonna ragazzi che fatica questa partita scusate un attimo ma come cazzo è possibile che io ho messo 49 mila dollari in culo a casa come funziona? perché le abbiamo presi noi brother esatto e li avevamo già piazzati però eravamo tra l'altro grazie mille che mi avete detto tipo che bisogna andare dalla parte del guidatore perché sennò io tranquillo andiamo dietro porca puttana ciao ragazzi buonasera non è male è divertente come gioco molto divertente però mi sta facendo male il cuore sì io non so giocare sono troppo stupido ok allora io ragazzi ho l'insider io ho l'ingegnere io parto già da dentro sto parto già da dentro e prima mi hai ammazzato perché non avevo capito che stavo drillando tutto quanto il palazzo no no io ti ho capito perché ti sei girato tipo di lato mamma mia ci vanno dritti gaming ha fatto il gaming hai chiuso la porta ma come fai ad entrare Insider? posso dire che Insider si chiama già sei dentro praticamente è molto carino come hai fatto? è una classe che si chiama Insider allora loro hanno la spia quindi occhio che uno di loro potrebbe essere tranquillamente un poliziotto sedia tu ok già sei dentro io sono dentro voglio andare a prendere il drill e posizionarlo ok qua sta un poliziotto allora ragazzi io ho la macchinina esplosiva posso far esplodere se mi aprite la porta del gioielleria posso far esplodere il cavo subito sì e l'ho fatto prima ok allora allora ci penso io Em tu vai al furgoncino c'è un vigile del fuoco qui eh sì sì tranquillo tranquillo io vado al ad aprire il bunker qui a sinistra sì sì tanto io ho la macchinina telecomandata mi metto qua fuori e incomincio a girare con la macchinina ragazzi io ci provo che stefa? tutta la gioielleria tutta arrivo arrivo con la macchina esplosiva se appena ti sparano li faccio scoppiare veramente ma perché è sempre questo? no no aiuto aiuto dov'è dov'è dov'è? l'ho ucciso? perché non lo posso piazzare? vai 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 ti sto per aprire la porta arriva arriva arrivo qua la porta è aperta qua la porta è aperta arriva arrivo arrivo con la bomba ci ho aperto la porta del cavo ah dove è stato il cavo? aspetta qua quale è sotto? la porta del cavo è quello sotto una volta dall'entrata tutto a sinistra ok vado 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 merda no cristo no no ciao goldo ma sono rimasto solo io? no 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 ci siamo io ok ragazzi non rompetemi il cazzo ho preso 24.000 va benissimo si va messi guarda bravo bravo bene 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 allora in realtà basta una colla ah no le rubate tutte e tutte dobbiamo fare esplodere sto cavo eh lo fate esplodere non è esploso? no ma non è questo allora allora no ho fatto questo qui più qua dove sono io ah we're on these guys sono cavolo dove? in questo qui vieni qua vieni qua seguimi shh sta là cazzo hai i vestiti sbagliati bro esci subito eh infatti sto uscendo di qua è aperto è il cavo aperto mi dite sta qualcuno là? si 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 sta il poli del fuoco di qua di qua di qua raga io devo uscire raga io devo uscire c'ho 32 nel culo eh shh c'è la porta c'è la porta questo è palese un poliziotto bro prendo l'oro prendilo solo tu prendilo solo tu siamo tutti qui? si si prendilo solo tu raga? me lo scappo gg baby let's go ah le prezzi pure tu ho preso l'oro ho preso i lingotti d'oro signor gg ciao darione dato dato bel elemento allora praticamente io ho fatto un buco sotto un volto sono salito ho preso quattro lingotti d'oro e sono uscito tu vuoi fare i buchi sotto terra? si perché io sono il gamer mamma mia sono pazzo sono pazzo gg ragazzi io mi sto scellando tantissimo in questo gioco è troppo bello mi sta prendendo un sacco questo è un problema potrei sviluppare sviluppare cenni di kleptomania io ci sono kleptomani ragazzi allora allora io penso che prenderò il distrattore sempre l'insider io vado sempre l'ingegniera ma io ad un certo punto penso di averti visto con la maschera ma non ne sono sicuro si ero io e perché ti vedo la maschera? non dovrei vederla è sbagliato è sbagliato non lo so perché chat vi sta piacendo mettere sto gioco? a me è un bordello semplicissimo bellissimo guardia e ladri spettacolo potenzialmente si forse perché poi sei pazzo disse quindi sedia che cazzo di gaming che avete fatto prima leo 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 scusami leo 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 come mi vedi leo scusa me lo so dimenticato ma bello ho già preso 2000 eh si si c'è la cosa io spawno con 2000 perché c'ho il hai la maschera hai la maschera del collo dici che mi spareranno? tu hai il drill hai la maschera del collo ok quindi ok ma non fare se stai cercando di capire cose no lo dico alla chat che la chat deve capire che è un momento gaming eh si eh si è mosso in maniera troppo sussi era un sussi bacca ragazzi sono io un poliziotto ragazzi mi sono mi sono trasformato da poliziotto oh oh è passato un poliziotto eri tu no non eri tu io vedo Leonardo Bruce solamente perché c'è il nome fatto io non ho ancora capito come nascondere cioè prendere la roba io non ho ancora capito un cazzo dov'è la bomba? dov'è la bomba? allora Emerald sei poliziottissimo si sedia se non avete vita ditemelo allora io ho la macchinina adesso eh mi devi coprire mentre vado al volto vai 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 aspetta che mi sono ingamberato sulla cazzo di macchinina di merda attento 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 cosa cazzarò l'è stato? un civile che è morto a caso ho avuto paura vai al cavo che la faccio esplodere sto al cavo sto al cavo no senti dove hai piazzato la bomba no 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 non l'ho piazzata la bomba io adesso faccio il drill cristo buco sotto il vault appena finisce io posso salire aprimi questa porta aprimi questa porta questa qui questa qui del 12 il vault questa no mi mando fortissimo dentro al buco mi ha ucciso mi ha ucciso no e non capire una cazzo e sparare a Leo basta questo è quello che bisogna fare ragazzi ho fatto io non so se ho soldi addosso come lo vedo posso cambiare tipo toccati le tasche se sono piene vuol dire che io ho fatto esplodere raga il volto mi sa che è aperto a questo punto mi devo sparare a sto sergente no vai Leo vai Leo vai Leo vai Leo aaa madonna corri 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 aaa come li metto dentro dai dietro dai dietro dai dietro dai dietro premigine sono dietro vigi ok messo dentro Leonardo che forte ho hackerato i 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 Come faccio io ci vorrei picciando da un'ora arriva poldo mi in cura ma perché come sto Perché forse non dovevi essere lì con le dati Signore Io provengo dalla ok ok raga raga che ha piano 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 Cambiamo mappa vai Poldo l'ultima che hai fatto su berro Si non ho ammocciato Solamente perché ero in un posto dove doveva essere Esatto è rivestita da civile Ha rivestito da civile Quindi hai proprio visto che non avevo la Cambiamo mappa Ho cliccato qui Porca puttana Ok tornate alla lobby Miglior gamer d'italia sono proprio i marco Allora Server Madonna sto gas Sedia viene dalla luna che il cielo lo attraversa Ma la paura per una cultura diversa Siamo anche altre modalità non penso La paura perversa dal punto di quanto si vede sterza Non non penso Non penso Vai perro vai perro come si chiama Lossermanos come sempre Si chiama Lossermanos la password è piedi due Ah è piedi due? Piedi due Ma perché l'hai cambiata? Wrong password Così non trovate quella vecchia Sì ma adesso io sto aggiornando della giusta Che con la passo sbagliata e c'ho tutto bloccato Piedi due Piedi due sì A me è tutto bloccato Ma Lossermanos non me lo Non me lo trova Ok ok ce l'ho ce l'ho ce l'ho Piedi due Non riesco a trovare il nome del server Devi scriverlo e devi premere cerca Piedi due Sì ma tu sei dentro Leo Adesso sono entrato Ok Chi manca chi manca manca Berro Ragazzi io No sono officer Ragazzi io ho sbloccato Ho sbloccato Al Capone No Al Capone Carl Max No ce la faccio il martello Va bene Cosa? Ti giuro sì Sono comunista Fate ridi che così rifaccio la lobby Così entra Berro Entrato Non sceglierà la classe ma c'è Io avevo una classe a caso Va bene Chi sono i poliziotti? Io e Leo Sedia e Leo Ok Ok E mappa nuova Io ho un Non so chi ho Ah ho il touch Io ragazzi Io ho preso Albert Einstein Ti giuro E ho tipo una bomba che posso piazzare Ho paura che bomba sia piazzato Mimimimimimimimimimimimimimimimi Anch'io posso piazzare una bomba Ragazzi penso che posso creare un impulso elettromagnetico Mi stanno sparando Mi hanno ucciso ragazzi Poldo come sei finito sopra il tetto C'ho la pistola per salirci sopra il tetto Ma è broken Ma non posso più risponare No no è assurdo Questa cosa Un giorno te la spiego Ok Cristo ti dico se arriva qualcuno Vai Arriva Berro Buongiorno si sono io Grazie che l'hai aggiornato Minchia Polizia non mi arriva Ma tipo puoi fare un 360 anoscope da qua sopra Poldo Puoi fare un 360 anoscope poi Tipo i trickshoti Leo Che cazzo stai facendo Dio caro con un lance granate per sta Vai Cristo Oh ditto d'Iro Bella bella Io ho inculato il siciliano Il campano Il cazzolino Le cazzolini La sedia Gli ho tirato Gli ho messo tipo il fucile a pompa nel culo Aiuto raga Aiuto 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 Scappa 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 Ce l'hai dietro ce l'hai dietro Siedi al tipo gli ho fatto tantissimo danno È one hit Allora loro hanno ancora quattro vite mi sa Sì Sì porca puttana Io non posso più entrare Oddio da cosa la porti in faccia Un attimo Io ho una bomba in più Non so cosa cazzo sia Voglio provare a metterle una volta Piazza 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 In questo in questo In questo dietro di te Eh sì Persiste un disagio Allora Poldo Devi rubare 6.000 Adesso è Cristo che non ascolta Allora raga raga devo fare tutto io Cosa posso fare raga consigli Dei rubare 6.000 Cosa di poi lo so prendi il sole Poldo che Devo rubare 6.000 6.000 Ragazzi fate la sub Che cosa per fargli rubare 6.000 Vedi se ci sono ancora delle collane qua sotto Eh no Come bro Ho bisogno di travestirmi da civile E così te l'hanno sentito sicuro Sì ma adesso sei di nuovo da civile Ah vuoi rubare Bello bello perfetto 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 Dio caro Poldo Dove è la sedia la bomba Anch'io La sedia la bomba Eeeh Dove cazzo è Prova 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 60 metri tipo in piano terra Davanti alla banca praticamente Ho visto 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 Chat ma quanti da me mancano per Per il coso mi si chiama Per il La live in cucina Che non Questa è una cosa che non posso vedere purtroppo Oh mio Dio ma che cazzo Come si chiama il trascensore E non avrà assolutamente un sospetto E tu puoi Puoi stare qua come manager tipo Non è sospetto anche questo? Sì effettivamente Che non lo so eh Non ho idea Allora lì c'è una terra Non puoi rubare dall'ATM No non puoi ritirare 50 euro Per fare la spesa Poldo vai dall'altra parte Ah ma non è vero Poldo eh Ho una brutta notizia Hai 45 secondi Oh porca puttana Poldo stai aggarendo Quanti soldi ho? Se non lo sai tu E non li vedo Poldo quanti soldi hai preso? Quanti soldi hai? Non mi dice nulla Non mi dice nulla Bro hai 29 secondi E mancano 6.000 dollari Eh non so che fare fra Eh abbiamo un grande problema Persistono in ogni disagio Ah c'hai soldi a terra I soldi a terra ce l'hai Ah a terra Prendi Bro devi correre Corri adesso la macchina Guarda che scorcia troia Bro Bro Non ci posso creare Ha fatto una cosa gaming Che call Fuori dopo una morte Anche se avevamo altre vite Non potevo risorgere Devi guardare lì in alto Vuol dire che questa mappa Ne avevamo quattro Ne avevamo quattro Non mi faceva risorgere Non lo so Comunque c'è una persona Che over pro a sto gioco Mi sta cominciando a dire Un sacco di cose Tipo c'è l'overtime Con i soldi addosso Di un minuto Che cazzo Che cosa incredibile Mamma mia Va bene gamers Non dire che sei già stanco Perché non ti credo Totalmente No no ragazzi Ragazzi questo gioco È bellissimo Devo farci yesl Allora Yesolo Yesolo sì Yesolo Madonna Ok però abbiamo capito Come funziona Questa banca Sì 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 Comunque In chat mi dicono Paul Dove ha chiarato tutto Ha preso l'ascensore Ha rotto la vetrata Ma ce l'ho fatta comunque Non ci posso credere No yesolo ragazzi Non è una mocciata Chat Calmatevi Allora Ragazzi io c'ho Allora io sono già dentro C'è già la bomba C'ho la macchinina Vi ricordo Posso aprire un bunker Io voglio Io voglio fare Il mio solito gaming Del drilling Vai Secondo voi ce la faccio Allora devo solo capire Dov'è il drill Innanzitutto Drill drill Where is the drill? Eccolo You know the drill Ragazzi Io faccio esplodere la guardia Kitchen Oh Cristo del Dio Signore Che cosa c'è Sono esploso Sta al piano di sopra Sta al piano di sopra Elevator Elevator Vai 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 Che un ascensore bellissimo Vai 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 Shhh Eh brother Com'è? Tutto a posto No no toglitela Aspetta fra Aspettate Io mi nascondo qui Ok Raga io ho già preso dei soldi 15 mila Io sono disghissato Ma ci sono dei funk o pop Oddio Raga Il pel 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 All'uscita Arrivo Arrivo Noi facciamo il solito gaming Adesso io sto qua Come non è ne pc Finché Porco dio Raga Si sta sparando da sopra Non ci so Non ci so Ok ok Ti begalo Ti begalo Quanto Ti begalo Nelle tue ossa È incredibile Ragazzi aspetta Ok Emme occhio E qui 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 c'è la SWAT Però tu sei vestito Come una guardia Che ti vede L'ho shottato Va bene Va bene Comunque Va bene Ciao Emme Che stai facendo Io regà Posso saltare Raga Secondo voi posso saltare Dalla finestra Ho fatto esplodere Cristo Devi sparare alla finestra Spara alla finestra No non mi esce Vai vai Non esce Riprovaci Spaccala Cracciati No Ok Devi andare in quelle grandi Nel salone Ma Cristo Dio Me lo potevi Sto facendo tipo Ciao ragazzi Le vedi quelle grandi Da là devi buttarti Spara e vede Ma io ti copro Ti copro Ti copro Sto arrivato Sto arrivato Sto arrivato Sto arrivato Sto arrivato Vai 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 Escoli 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 No L'hai trovato fuori No Frate Riprendilo E mettila Mettila Fai G Fatto 49.000 Ragazzi Storie di pallone Grazie mille Io ragazzi Penso di aver avuto Ragazzi Io voglio La clip Di come ho fatto esplodere Cristo Perché è comicissima Come cosa Ragazzi Letteralmente Nel bagno Giro con la macchina Vedo Cristo che viene verso di me La faccio esplodere In quadratura mia Si vede proprio Il fumo Che spunta dalla porta Del bagno Proprio un cazzo Di cartone animato Basta così o ancora? Oh sì Perché no Ancora 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 perché? Ma è bellissimo ragazzi Allora No sedia scusi Eccoci Sedia Ci sei sedia? Ok ci sono Ok Allora io vado sempre di Spy Che è una best Io vado di Coso Firefighters Firefighter Ok Sì 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 Allora io mi nascondo Mi nascondo Appena vedi delle cose sospette Fammelo sapere Che gli vado dire Yes Gli faccio il culo Prof mi devi fare la clip Della kill su Cristo Per forza È bellissimo No Ha fatto pisciata La risata Allora Raga Squadra vincente Non si cambia Avete capito? Va così Tranquillo Adesso mi metto qua Guarda le telecamere Si do un occhio No no Cerco di capire Se c'è qualcuno Che sussi Ok Ce n'è uno che corre Porca puttana Dove? 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 Fatto No mi ha ucciso Poldo Mi ha ucciso Poldo Sta Sta arrivando Verso di te Vedi Dai ha perso Abbiamo perso Brother Dici? Hanno fatto la speedrun Sì Vuoi vedere Figli di puttana Bastardi No Vabbè Ragazzi Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Che se ne hai preso Quella di dream Avete fatto la speedrun Io ho rubato dai bancomat Diciotto mila Subito E io ho dodicimila dai bancomat E tutti quanti si sono messi A daccareare i bancomat Cazzo Poldo stavolta ha capito Che tra l'altro Si è Deposito Facciamo l'ultima E poi cambiamo mappa Vai Che dire Va bene Oh comunque Tu sempre un poliziotto Sei allucinante No no Io Adesso Ho deciso Che faccio il coso Dicono Il firefighters Però Per me è incredibile Sì ma Minchia Hai fatto la speedrun Di prima è stata assurda Porca puttana Allora Andiamo diretti agli atm Tu sai dove è uno? No Lo trovarò Ok Hai presente Ce n'è uno all'ingresso Tipo Immagina di essere un ladro Sì Entra l'ingresso Tutto a sinistra Ok Con tre atm Che erano uno lì Che avevo rubato io Tu vai subito là E vedi se Ok Mi ci campero lì Io subito Io vado agli altri Io vado agli altri atm Vai Ci sei andato Ci sto andando adesso Ho visto uno correre C'è già qualcuno agli atm Che sta hackerando No invece no No mi ha ucciso cristo Merda Io sto camperando gli atm Dov'è? Qua mi ha anche ucciso Eccolo Fatto Dove sono gli altri atm Tu rimani a questi Ok vado 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 Rimango qua io e loro Dove sono gli altri atm Eh non lo so Perché? Ma? Che è successo? Ti hanno arrestato Mi sono stato eliminato No ho sparato Ho sparato a un npc Che era vestito da Da customer Nella zona dei Dei negozianti Ed era un npc Sarà bugato Ah E sei morto morto Merda chat Tutti i volti sono aperti Ah vuol dire che hanno hackerato Tre computer bro Ah di buona fortuna frate Ne devi uccidere due Sono rimasti in due Eh sperando che escono da qui No usciranno dall'altro Non escono mai dall'entrata Vai dall'altro Dove c'è la metropolitana Minchia Merda No era proprio dietro Berro Merda Posso ancora rinascere io Visto? Fatto? Ok hai solo berro Io sto guardando le videocamere Ben Ok Infatti non devo fare l'errore di killare No Non te lo puoi permettere Non è che lui berro Allora Se va verso la metropolitana lo secchi Va verso la metropolitana Seccalo 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 Quella a sinistra Quella a sinistra E' rientrato E' rientrato nella metropolitana Berro No non era berro Berro era fuori No Cambiamo la mappa Cambiamo la mappa Fate lib server Fate lib server No Lib server Lib server Bastardo che mi hai fermato Come si fa lib server? Godo 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 Come si fa lib server? Ah Disconnect La password è piedi 2 Ok Di nuovo? Sì Sì Perché devi mettere quel 2? Esatto Ora è piedi 3 Perdonatemi Ora è piedi 3 Piedi 3 Piedi 3 Piedi 3 Piedi 3 Lossa Piedi 3 Non c'è il server Buonanotte Ok Ok c'è School Island Sì Questa è incredibile Non c'è il server Non lo trovo io Nemmeno io Vai Vai fare search Io ci sono Noi ci sono Sto facendo search Ma non lo trovo Ok Piedi 3 Ah c'è un lost hermano Se un lost hermano 3 Qual è il tuo? Il 3 e 3 Buonasera super mario Buonasera Ciao super mario La gang Ragazzi ma siamo Ma sono Sono l'unico Ah non vado a dormire Stavo salutando Va bene Ok Oh cazzo Veramente Io sono il sur Ragazzi Io vado di nuovo I engineer Ragazzi Ho il rocket launcher Non posso fare nient'altro Bro Mi sembra un po' Eccessivo Io metto l'insider Perché l'insider È una bestia Mamma mia Ma è bellissimo L'insider è bestiale Parti da dentro Puoi usare il drill Una bestia Allora ragazzuoli Ma qui come siamo messi Regà mancano 17 punti sub E facciamo poi E me in cucina Dai Cos'è? Eccoci Io sono già dentro Oddio ragazzi Ma è una banca in Calabria Lo è Beh però Calabria è bella Allora Ho detto che è brutta Ho detto soltanto Che è una banca in Calabria Ci lasciano Lo dico perché sono stato No più che Calabria Queste a me Sembrano tipo le isole oli O quelle cose L'isola d'erba L'isola d'erba L'isola d'erba Ragazzi ho killato Cristo alle spalle Chi è che spara? E io Così proprio Mi sono svappato Sotto Cosa? Si scende ancora La mappa è molto grande Ragazzi Sto citando ragazzi Un gioco arcade Ragazzi ho dei soldi Ascoltatemi E me vieni di qua Gira gira Di qua di qua Di l'altro lato Vieni No ragazzi Mi sto droppato giù Oh il Calabrese di prima Mi può ascoltare un secondo? C'è 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 Tipo Ho trovato una cassa Del tesoro dei pirati In spiagge Ho raggabbato 9000 dollari così Ma che cosa vuol dire? Tu puoi piccare Tu puoi piccare il gold Dal tesoro dei pirati E poi portarlo in coso E vinci Ma hai volto Vai 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 Ma che cazzo E a questo punto cazzo Un pattuglio Un interno a spiaggia Sono altri tesori Io vado tranquillo Abbiamo 15.000 Quindi Ragazzi Perché ci sono dei centurioni qui? Non sopra Siamo tipo Quale Caesar Palace Di Las Vegas Sì ma sta mappa è folle Sta mappa è enorme Più che altro Oh? Scusa che questo è sparbolla Io sono dentro A un elicottero ragazzi Non so neanche perché sono qui Ma Io Raga Hacker ho tutti i controlli Cazzo Ma non posso farlo Che palla Non posso uscire Ragazzi perché c'è un centurione qui? Tu non ti per È la tua antica Roma Oh Vai Mi apri questa porta Ragazzi Ragazzi Leo Mi ha tipo accoltellato Stazione Termini Non lo so Ragazzi Ma era vestito da Romano Vedi vedi Eccolo Dove si scende giù Ragazzi Ma che cazzo Te l'ho detto Te l'ho detto Lui Sto esplorando la mappa ragazzi Che stai facendo? Ma dove cazzo sei? Sto conquistando la mappa Eccoci Bene Ho fatto il fuoco E adesso Berro Non posso neanche Ricarlo Berro Sei tutti noi Sei tutti noi Vuoi farcela Allora Ho appena deciso Che l'ultima partita Se Berro ce la fa Deve farcela Dai Berro Berro Innanzitutto Hai due minuti Devi farcela Due minuti Adesso devo appena tornare indietro Cazzo Allora Magari questa qua è una Ma mi sentono Se corro in questa maniera Eh Diciamo che In generale Sì È una scorciatroia Secondo voi questa Secondo me Sì Probabilmente Vedi se trovi Della flore della fauna locale Mancano due minuti Berro Vai 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 Corri Berro Allora ragazzi Vi voglio cazzuti A Urrà per Berro Fronzo In chat Urrà Un re in chat Un re in chat Ragazzi Allora Berro 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 Vai prendere la bomba La vedi Sta a 95 metri Prendi la bomba Entri dentro La piazzina un volto Lo fai esplodere Prendi i soldi Vai alla macchina Semplice No Lo devi fare Sì Vai Allora Io vado di qua Cioè io prendo la bomba E la gente dirà Oh guarda C'è un berro con la bomba Mi fredderà Un centurione Esatto Tutto quanto molto Corretto E la sopra La sopra Sta guardando Merda La 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 Sotto il centurione Ti dirò Quando prendere la bomba Questa qua è una banana Sì Ok No no Fermo 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 perro Nasconditi 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 Sotto il masso Ti ha visto Ti ha visto Ti ha visto Sta arrivando Ok Veduta a destra Veduta a destra Veduta a destra Veduta a destra Berro Corri Corri Dritto 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 Ok Vai 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 Bravissimo Bravissimo Sotto la cascata Dentro la cascata C'è un'entrata C'è un'entrata Vai 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 Sì 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 Vai 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 Entra nella cascata Vai Vai Mancano 30 secondi Berro Ce la puoi fare Devi solo prendere i soldi Ok Vedi il volto a 30 metri Vedi il volto a 30 metri Fallo esplodere Con la davanti Sì 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 Questo Fallo esplodere Eh 17 secondi No Berro Terzo Ragazzi Mi ha Mi ha Kniffato Scusate Ragazzi Leo è Il coltello Ma che è Ad esplorare Cazzo Ragazzi Tu dovete sapere Che il berro Era fuori dalla mappa A farci una passeggiata Sì Io tipo ero veramente Ad esplorare Le isole Che dite Babbia Basta Io sono felice Ragazzi Giulio Cesare Poteva morire Solo da veleno O poco Non da armi Ranged Ma what the fuck Gran bel gioco Bellissimo Mi sono spaccato dalle risate E ho avuto un sacco di gaming Ragazzi Domanda secondo voi Lo rifaremo? No Non lo so Ok Perfetto Non devi dichiararlo E devo restituire 10 euro A poldo Proprietà No Va bene amici Io vi ringrazio Grazie mille raga Se vi è piaciuto Io vi posso riproporre Un altro gioco Che è molto guardia e ladri La prossima volta Ok Mi piace Mi piace Si chiama Wow E la fama a tutti Quante le nostre chat Si si può fare Facciamo crescere il gioco Ci sto Allora Quei game Sarà Noi Cioè giochiamo noi Tranquilli L'ultima partita Apriamo i cancelli Ma soprattutto Una delle prossime volte Portiamo crab game Come mi scrivo Sì per favore Crab game Potremmo fare No ragazzi Secondo me Ci può fare Dai Anche perché io non so Che cosa hanno messo Negli aggiornamenti Nulla Sì sì anche voi Anche voi Francio Assolutamente Ma no 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 Tutti Scusa Scusa Tutti tranne Francio Lui no Perché Tutti Vanno bene tutti Facciamo giocare Tutti quanti sub Tutti quanti iscritti Non serve sub Tutti quanti Tranne lui Perché Che ha fatto Non lo so Ma mi piace Non invitare solo lui Che ha chiesto No non è vero Anche se c'è un passato Dietro questa cosa Sarebbe bellissimo Che zucchiamo tutti Tranne lui Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Ma andiamo Vediamo che fare raga Bye 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 Ciao 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 ciao